Per noi dare testimonianza della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori serve soprattutto a far capire che in questo paese c'è un'emergenza di sicurezza, c'è un'emergenza di norme, bisogna investire, investire sulla qualità. Partiranno anche ad Arezzo in direzione Firenze per lo sciopero proclamato da CGL e Guil e dalle loro categorie edili e metalmeccanici. La stanzione dal lavoro è stata indetta per dire basta alle stragi sul lavoro a seguito del crollo nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze. Per noi è importante denunciare e far capire che ci sono delle responsabilità. Intanto c'è una competizione d'impresa che si gioca esclusivamente sui tagli alla sicurezza, vedendo la sicurezza e gli investimenti sulla sicurezza come costo. Ci sono degli impianti normativi che vanno modificati, questo governo non ha fatto altro invece che disincentivare, deregolamentizzando il lavoro e deregolamentizzando quelle che erano delle prassi anche sulla questione legata agli appalti, rifavorendo la logica dell'appalto, del subappalto, del contrappalto, non ultimo e massimo ribasso. Quando noi diciamo che bisogna estendere quei protocolli già indeboliti, per esempio che ci sono sugli appalti pubblici verso il privato, è perché se già sul privato ci sono delle regole per quanto riguarda gli appalti che ripeto sono state indebolite, immaginatevi cosa può avvenire nel privato. I riflettori dopo i tragici fatti sono tornati ad accendersi anche sui controlli. Ma anche qui per fare più controlli ci vuole più personale. Io già in passato ho denunciato la carenza degli organici e la carenza degli organici sta di pari passo e finanziamento che si fa delle funzioni pubbliche decentrate. E dopo la strage nel cantiere si torna a parlare anche di omicidio sul lavoro. Lo stiamo parlando, lo stiamo sostenendo da tanto tempo, ma va tradotto in legge, perché parlarne basta non fa altro che ci si ritrova magari tra 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, se non domani stesso, a ridirci le stesse cose, a esprimere cordoglio.